Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio EMG Different per il programma Agora su RAI3, sulle intenzioni di voto politica nazionale. Fratelli d'Italia scende al 27%, non era mai stato così in basso dalle elezioni, quindi perde il 3%, mentre il PD è al 18,9%. Il Movimento 5 Stelle al 16,6%, la Lega scende al 9,3%, Forza Italia stabile all'8,5%, Calenda e Renzi sono al 7,1%. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.